Ciao amici, come va? Tutto bene? Allora, spero bene, intanto vi faccio vedere oggi una cosa incredibile vedrete solo un mazzo di carta non verrà tagliato, manipolato anche perché il conteggio deve fare l'ospedatore di questo high-tech deck, era finitissimo, costosissimo e il remoto di contorno l'ho messo a 5 metri di stanza perché metti in caso un prestatore vuole fare lo show e vuole fare l'oligrail può nascondere dietro le quinte, non so, lo può tenere qualcuno, un complice oppure, non so, nella varicetta da scena, nascosto dove vuole per nasconderlo, l'importante è che siamo in quei 5-6 metri di stanza io lo chiamo non remoto di controllo, lo chiamo in maniera angelica molto uffo lo chiamo perché è un maglien, non è normale cosa avviene? L'ho programmato per 3 carte, quindi la parola programmare non vuol dire che io adesso so le carte che usciranno qua per questo è un'applicazione random, anche perché la carta viene detta a voce e il numero è detta a voce, ok? ma cosa fa lui pazzesco? La carta casuale la prepara su display e nella prossima applicazione che userò, quella dei numeri random, sono 52 lui farà un calcolo, mi rischiaffla le carte, sciaffla da miscolare mi cambi in maniera pigmentata elettronicamente dal colore rosso a nero mi cambia insieme da cuore, me lo ruota e picche, fa tutto lui è un high tech deck, quindi sono mini display, non pertaci come le carte plastificate, quindi è una cosa assurda allora vi faccio vedere cosa intendo, esce fuori la carta al caso 6 di cuore, giusto? ma, ma perché quello che c'è è assurdo lui ha già preso la carta ora sta lasciandola in stallo e sta aspettando che esca il numero casuale, guardate è assurdo, quindi 6 di cuore la carta siamo ufologia 52, vedete da 1 a 52, ok? ora come funziona? io posiziono il sensore che ho già programmato nel cellulare tac, è già fatto è assurdo ragazzi ma è così, non sto scherzando 5 mi dice il led verde che si deve contare da sotto 5 carte se è il led rosso vuol dire che non si contano i giorni quindi 5 carte è assurdo 1, 2, 3, 4 e la quinta carta è il 6 di cuore mini display che sono già cambiate a livello pigmentoso elettronicamente quindi è assurdo